Bella a tutti ragazzi, qua ai palletti e vieni. Come la città nel tetto, chiudo il canale, ma ho aperto un nuovo canale e vi lascio il link in descrizione del nuovo canale. Chi si vuole iscrivere, io lo ringrazio, perché chiudo il canale? Non me lo voglio dire bene, ve lo dirò dopo. Non mi sono ritirato con Gian Piero, non è successo niente. E' il 28 marzo 2016, ore 11 e mezzo, quando gli editati abbiamo fatto il primo video. C'è voluto 3 ore, normalmente per registrare, 3 ore di editing e 12 ore di caricamento, beh lasciamo stare il caricamento. Poi, a dicembre, con Gian Piero, il primo video, con Gian Piero, si, il vlog se mi ricordo bene. E ragazzi, niente, io vi ringrazio intanto per questa avventura Gespo, YouTube Gespo, mi lascio il link in descrizione. Anche se io ho sbagliato qualche cosa su di lui, ma io mi scuso di nuovo con lui. Ringrazio a Tuoni, ringrazio a lui che ho continuato su YouTube la mia avventura, grazie veramente ai 24 tuoni. Poi ringrazio a Vincent, ringrazio a Franky Franky che mi ha invitato a suonare live, a Joan, a Stedix, Spino, Dazzo. Sono tantissimi da ringraziare ragazzi, non ce la faccio, sono i video due da tanto. Gli ringraziamenti speciali è per Gian Piero, che è stato il mio collega da dicembre. Ma ringraziamenti veramente speciali, molto, molto speciali, è a Davide. Perché iniziamo con lui e Davide che mi hanno iniziato veramente da zero, che ho pensato, e io ringrazio a lui veramente. Vabbè ringrazio anche ai miei amici che mi hanno aiutato qualche volta, come Antonino, Mario e basta. In realtà io vi lascio così, per chi chiude il canale, iscritto ai ricambi, ho sbagliato, ho sbagliato a fare questo, iscritto ai ricambi. 400 iscritti, ma aveva 18 visualizzazioni. Sì, facevo video di bassa qualità, video di, non posso dire parolacce, bassa qualità. Ma ora per il nuovo canale la qualità sarà migliore. Farò video di calcio, di serie A come Silcov, non so se lo conoscete. Portò Minecraft, portò tante cose buone. Un video a settimane sicuri. Con Gian Piero lui oggi era libero, domani no. Io oggi ero impegno, domani è libero, non avevamo tempo per registrare. Solo posso registrare quando voglio. Alle due, alle tre, alle quattro di notte, alle cinque di notte, quando voglio. E ragazzi, niente, chiude il canale, il canale rimanerà con tutti i video, però non pubblico più video. Iscrivetevi al mio canale nuovo, il link in descrizione si chiama Daniel Youtube. E uscite il canale nel nuovo canale in questo momento. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, al nuovo canale.